Trovare un nuovo cliente è sette volte più costoso che mantenere un cliente già acquisito. Fidelizzare clienti è una delle azioni che una qualsiasi azienda di qualsiasi dimensione dovrebbe inserire nella sua strategia. Questo ce l'ho detto in svariati video, ve l'ho raccontato in svariati video, quindi diciamo che in questo video qua cercheremo di capire perché appoggiarsi ad un software di Fidelity Card sia una scelta furba e vantaggiosa. Ecco quindi cosa troverai, cosa vedremo insieme in questo video guida. Cercheremo di capire perché il tuo negozio dovrebbe usare un software di Fidelity Card. Capiremo come funziona il software Fidelity Card di SMS Hosting. Andiamo un po' a capire se fa per voi o non fa per voi, perché potrebbe anche essere che non faccia per voi. Ed infine capiremo come creare una tessera raccolta punti digitale in tre step. Iniziamo, perché il tuo negozio dovrebbe utilizzare un software di Fidelity Card? Beh, grazie a questi sistemi puoi strutturare in maniera efficace un programma di fidelizzazione dei clienti. In poche parole cosa succede? Un programma fedeltà ti consente di instaurare con il cliente un rapporto di questo tipo. Lui acquista, ti porta a reddito e tu in cambio gli regali un qualcosa con un articolo gratuito e uno sconto. Questo crea un circolo vizioso in cui il cliente si sente più legato al brand, al tuo negozio, quindi alla tua attività e tornerà ad acquistare da te più spesso. Quindi, aumenti il coinvolgimento dei clienti, ma non solo, migliori le vendite, la tua brand reputation, la fidelizzazione dei clienti e più in generale anche la fiducia nel tuo negozio. Però vi dico una cosa che ho già detto in altri video, ma perché il programma fedeltà funzioni ad oggi è importante che si basi sulle tessere digitali e non più cartacee. Vi lascio nelle schede del video in cui parlo approfonditamente di questo, parliamo anche di Starbucks e del suo programma digitale, ma per farvela breve, per darvi due o tre dati al volo, diciamo che le tessere cartacee vengono perse nei portafogli perché sono sommerse di cose. Ad oggi non basta più il timbrino, i clienti vogliono personalizzazione, convenienza, varietà. Le tessere digitali sono comode da consultare perché il cliente le tiene nel suo smartphone e in qualsiasi momento può monitorare i punti accumulati. Grazie ai software Fidelity Card Digitali raccogli i dati dei clienti, quindi i contatti, l'importo speso, i premi discorsi, i punti accumulati, cavolo sono dati fondamentali ad oggi. E infine, ma non per importanza perché è importantissimo, grazie ai programmi fedeltà digitali puoi impostare dei messaggi automatici in base ai punti accumulati. Cerchiamo quindi insieme di capire come funziona i software Fidelity Card di SMS Hosting. Parlo di questo perché è quello che io conosco, quello che io ad alcuni di voi propongo, ad altri no e perché lo vedremo dopo insieme. In ogni caso, le tessere di questo programma saranno digitali, quindi non dovrai sostenere alcun costo di stampa, ma solamente il costo della piattaforma. Quanto costa? Così sfatiamo questo mito di quanto costano le cose, che è sempre poi il punto di chi ci fa decidere o propendere per una o l'altra soluzione. Allora, questo software è all'interno di una più ampia piattaforma di marketing e costa 14 euro al mese più IVA. Quindi, con 14 euro al mese più IVA hai la possibilità di avere il programma tessere fedeltà, più una serie di cose che sono conto, infinite landing page, chatbot, sms, email, insomma quindi un piano premium completo ti permette di svolgere molte cose. Quando tu iscrivi il cliente al tuo programma fedeltà, potrà consultare la tessera fedeltà, la propria tessera fedeltà, dal proprio smartphone, per vedere quanti punti accumulati e quali premi potrà ottenere a breve. Dove si salverà la tessera, giusto per capire bene come funziona? Allora, al momento della creazione della propria tessera, il cliente riceverà un sms con il link, cliccando arriverà la sua tesserina con il suo numero di punti. A quel momento lì potrà anche decidere di salvare la tessera nel proprio mobile wallet. Per chi non lo conoscesse, è l'app nativa di iOS, oppure in Android lo troviamo come Gpay, e ci permette di salvare tutte le nostre tessere in questo raccoglitore digitale. In modo che poi, se voglio rivisualizzarmi la tessera, non devo tornare nell'sms a cercarmi la cosa, ma insomma vado sul mobile wallet e ho la tessera. La tessera sa il nome del tuo negozio, quindi non comparirà il sms vostri, ma parlerai come, non so, Marta Boutique. Ve la butto là. Ok, quindi questo lato cliente e tu proprietario di negozio, cosa potrai fare? Quindi quali saranno i tuoi punti di forza, i tuoi vantaggi? Potrai assegnare i punti ai clienti con un clic, in maniera semplicissima. Quando il cliente viene in negozio per scuotere i premi, potrai segnare come utilizzato quel premio, vengono scalati in maniera automatica i punti. Potrai impostare infiniti premi e infiniti messaggi automatici relativi al premio, che avviseranno il cliente che mancano solo tot punti per ottenere quel premio, vieni in negozio, questo tutto in maniera automatica. Avrai infinite tessere fedeltà a disposizione, quindi nessun numero di clienti che puoi registrare, più ne registri, meglio è per te. E infine avrai le statistiche sui premi, sugli importi spesi, i punti accumulati, insomma statistiche sempre aggiornate sull'andamento dei clienti fidelizzati nel tuo negozio. Arriviamo al punto cruciale. Prima ti avevo promesso che avrai parlato di fa per te se, non fa per te se. Come vedi il nostro software Fidelity Card è molto semplice da utilizzare, ti offre un'immediata usabilità, a un costo relativamente basso, permette di sostituire le tessere cartacce, migliorando l'efficacia del tuo programma Fidelità, ed è collegato a sms e mail per consentirti di inviare messaggi automatici ai clienti in base ai loro acquisti. Qui diciamo che possiamo riassumere che le Fidelity Card e sms hosting fanno per voi, se avete un negozio, gestito il negozio, una catena di negozio in cui i vostri dipendenti o tu stesso avete la possibilità e il tempo di assegnare i punti ad ogni acquisto. È quindi un programma Fidelità perfetto per negozi di abbigliamento, di calzature, librerie, profumerie, erbodisterie, ristoranti, pizzerie, negozi che vengono articoli per la casa, tipografie, estetiste, parrucchiere, chi più ne ha più ne mette, insomma tutte quelle attività in cui il giro dei clienti non è troppo veloce, quindi non c'è un turnover di clienti troppo ritmato. Al contrario, questo soft Fidelity Card sms hosting non fa per te se hai già un punto cassa avanzato con incluso un sistema di Fidelity Card che quindi già pagherai e in questo caso ti consigliamo di utilizzare quello legato al tuo punto cassa. Oppure hai un giro di clienti molto veloce come un supermercato o un chiosco in spiaggia per cui non hai il tempo di assegnare manualmente i punti, cioè arriva la persona, zac, tac, tac, arriva l'altro, avanti, veloci. Non hai il tempo di aprire il tuo tablet e di assegnare i punti. Alcuni ci potrebbero chiedere, anzi, me l'hanno già chiesto, ma perché non avete fatto un software di Fidelity Card che si leghi, quindi legato ad un punto cassa? La risposta è semplice perché il nostro obiettivo era quello di creare un programma Fidelità che funzionasse in maniera perfetta ma che fosse all'interno di una piattaforma più avanzata e strutturata di marketing con la gestione della Fidelity Card ma non solo. Perché? Perché una volta raccolti i contatti che si registrano con la Fidelity Card potrai fare un'immensità di azioni che per noi sono importantissime per andare a creare tutto quell'ambiente in cui il cliente si lega fortemente al brand. Ti faccio qualche esempio di queste azioni che puoi fare. Realizzare campagne di sms marketing e email marketing, inviare sms automatici di compleanno, inviare coupon sconto personalizzati, inserire nel flusso di comunicazione i chatbot di Facebook Messenger che puoi creare direttamente dalla piattaforma, sfruttare la marketing automation, quindi sono vari poi sistemi di marketing automation, ricordare gli appuntamenti, per esempio parrucchiere estetiste, insomma queste sono una parte delle funzionalità, però come vedi l'obiettivo era utilizzare la Fidelity Card per raccogliere i clienti, per comunicare con loro in maniera automatica con i sms legati ai premi, oltre a questo però devo gestire il contatto in una maniera a 360 gradi all'interno di una piattaforma di marketing. E a questo punto vediamo quindi come creare la tessera fedeltà digitale del tuo negozio in tre step. Ti consiglio di seguire passo passo queste azioni, in modo a convertire e configurare i software insomma insieme. Il primo step è quello di registrarsi gratuitamente a sms hosting. Nella descrizione ti lascio il video per l'iscrizione, cliccando lì fai tutti i passaggi per iscriverti e il grossissimo vantaggio che hai è che hai tre mesi gratuiti del piano premium, quindi puoi provare la tessera fedeltà in maniera assolutamente gratuita. Se ti piace la cosa continui, per tre mesi ce l'hai gratis e dopo il quarto mese inizia a pagare 14 euro al mese. Quindi questo perché vogliamo dare proprio la possibilità di provare in maniera tangibile il servizio. Il secondo punto è quello di configurare la fidelity card del tuo negozio, ovvero dovrai andare ad inserire nel sistema il nome della tessera e le informazioni del tuo negozio, quindi puoi anche inserire la mappa, il numero di telefono, i contatti social. Perché? Perché queste informazioni le vedrà il cliente poi nella sua personale tessera fedeltà, quindi ogni volta che andrà a vedere la tua tessera potrà anche accedere a tutte queste informazioni. Andrai a configurare anche il valore in euro dei punti, quindi se un euro equivale a un punto, oppure per esempio c'è chi fa un punto ogni 10 euro, insomma questo stabilisci lo tu, quindi lo vai a impostare nella piattaforma, vai a impostare il regolamento a norma di GDPR, il regolamento del tuo fidelity card, anche qui cosa molto bella perché nella piattaforma c'è già un template, quindi se tu non hai mai realizzato una fidelity card, puoi appoggiarti al nostro template già pronto. Vai a configurare il messaggio di benvenuto, infine strutturerai, sempre all'interno della piattaforma, il form per registrare i nuovi clienti, quindi quel form in cui da tenere in cassa, e quindi viene un cliente e tu gli dici, guarda se vuoi abbiamo anche un programma fedeltà, ti faccio intanto 5 euro di sconto immediato, questo ti consiglio di farlo, e hai questi vantaggi, questi e questi premi, ti va? Sì, ok, bene, compilami questi dati, inserisci qui la firma digitale, e il contatto ti entrerà automaticamente in SMS hosting. Per inserire tutte queste informazioni, accedi alla tua area personale SMS hosting, e segui il video che ti metto nelle schede e nella descrizione, quindi te lo metto a tutte e due le parti, perché è un video tutorial che proprio ti guida in tutti questi step. A questo punto cosa ti basterà? Beh, ti basterà inserire, quindi il terzo step è quello di inserire i premi, stabilire quanti punti sono necessari al raggiungimento di ciascun premio, quindi 50 punti, regalo, un aperitivo, 100 punti, un primo dal menu a scelta, eccetera, ed impostare anche i messaggi automatici relativi al premio. Di cosa si tratta? Chiariamo questa cosa. I messaggi automatici ti consentono di avvisare il cliente quando gli mancano X punti o X euro, per raggiungere un determinato premio, con l'obiettivo di stimolarlo a venire in negozio, spendere quella cifra ed ottenere il premio. Anche qui per impostare queste cose c'è un video tutorial, che ti metto sempre nelle schede e nella descrizione, così anche qua, se ommari ci sono certi processi un po' più difficili, li facciamo insieme. A questo punto il programma fedeltà è pronto, non ti resta che iniziare a promuovere questa iniziativa. Quindi dalla schermata iniziale, clicchi su registra nuovo cliente e inizi in negozio. Per promuovere al meglio il tuo programma fedeltà, ci sono varie, diciamo varie idee che abbiamo creato, e che ti lascio sempre nelle schede e nella descrizione, perché sono molto utili da seguire, proprio per spingere al massimo il programma fedeltà del tuo negozio. Ora, quando scrivi un nuovo cliente, cosa succede? Che lui riceverà quell'SMS famoso che vi dicevo prima, con il link della sua testa da fedeltà personale. Ogni volta che tornerà in negozio, tu gli assegnerai i punti, e lui riceverà gli SMS automatici, man mano che accumula i punti. A questo punto ti consiglio di provare, se poi non ti trovi bene, o non ti sembra che questo software Fidelity Card faccia per te, semplicemente non pagherai nulla. Per qualsiasi richiesta, abbiamo un supporto clienti disponibile, sia nella chat online del sito, che all'email assistenza che ho, cioè smsosin.it, che chiamando il numero 0437 30419. Quindi anche un'assistenza telefonica, volete configurare la vostra Fidelity, non vi trovate bene con il video tutorial che vi ho proposto, bene, chiamate l'assistenza e loro vi supportano. Allora non mi resta, non mi resta che dire buona fidelizzazione, se avete qualche domanda, fatela nei commenti, qualche spunto, sono sempre molto preziosi, non mi stancherò mai di dirle i vostri spunti, quindi scrivete anche questo nei commenti, e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, sempre con queste strategie, questi consigli per il marketing della tua attività. iscriviti al nostro canale, Grazie.